Tania, Gandolfi, Dilello, Gandolfi, D'Ambrosio, Palma, ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 403, votanti 351, studi 52, maggioranza 176, favore di 350, contrari 1, la Camera approva. Votazione dell'articolo 13. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Qualcuno riesce a votare? Montrone, Dilello, Pellegrino. La votazione è chiusa. Presenti 407, votanti 355, studi 52, maggioranza 178, favore di 355, contrari 1, la Camera approva. Articolo 14. Non ci sono emendamenti. Se nessuno chiede di intervenire, lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Qualcuno che non riesce a votare? Vico, Fitzgerald, Massa, Catania, Dilello. Altri? Ok. La votazione è chiusa. Presenti 407, votanti 359, studi 48, maggioranza 180, favore di 359, contrari 1, la Camera approva. Ho bisogno del parere sul 15.300, relatore. Favorevole il Governo? Favorevole. Bene. Qualcuno intende intervenire sul 15.300 della Commissione? Non mi pare. Lo pongo in votazione. Quel parere è favorevole, relatore del Governo. La votazione è aperta. Malisani. Donnei Ciprini, si affretti. Grazie. Marotta. Marotta. Marotta.